Musica Parallel guys are all back e oggi siamo in questo nuovo video delle Sky Giants Ve le ho portate perchè dal sondaggio che avevo fatto era il risultato che comunque la volete come serie Quindi sono felice anche di portarvela Una cosa che non ho fatto è avermi fatto prendere un coso come si chiama lì il teammate Non ho preso il teammate perchè non ho trovato nessuno successo sono abbastanza solo mi sento triste E quindi la facciamo da soli in team da 5 Siamo il team più numeroso? Si Minchia ragazzi siamo Porca me No 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 bro siamo amici siamo amici siamo amici Ok meno male è morto Guardate no la redstone io potrei rischiare e prendermi un cuore in più ma sto bene con i miei cuori Visto l'ultima volta che ho perso 600 cuori Eviterei anche perchè tranquilli io ci sto con i miei cuori non ne ho bisogno di averne altri Quindi li lasciamo a chi vuole rischiare chi si sente fortunato Io sto tranquillo con i miei quindi rimango con i miei bellissimi cuori e mi accontento Minchia quanta roba Buono E no un altro Ciao amico sta botta ci dovremmo difendere a tutti i costi Te puoi pulire un po' perchè mi hai rotto Allora sto coso se ne può pure andare Bella per lui Ok è iniziato Perfetto una cosa che dobbiamo fare è prenderci questo Io 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 me lo devo prendere ecco bravo Pussa via Ah c'è un'altra per te dove sei Amico Ho un corpetto per te Matta se sono già tutti i dati Allora la prima cosa che direi di fare è prendersi un arco Così siamo tranquilli E poi ci prendiamo un po' di cibo E direi che possiamo andare un attimo adesso Uno dovrebbe rimanere qui alla base ma questi li vedo molto io leggianti E so già che nessuno rimarrà alla base Quindi quello che dobbiamo fare è io leggiare e andare tutti su qualcosa Però io che passo così per tutti questi diamanti che fai non li prendi? Cioè contate che gli altri sono già volati via Siamo arrivati in due qui praticamente nell'isola Ecco abbiamo pure l'ultimo pezzo E siamo full diamante E' buono così che si ragiona Vi invito a lasciare subito un like Così almeno mi fate sapere se questa serie vi piace Se la possiamo continuare La miniatura l'ha fatta YDefense Passare dal suo Twitter Veramente stupenda grazie bro Anche se ancora non l'ho vista Perché lo sto registrando prima il video Ma fa figo dirlo così passare subito dal suo canale E una cosa che Tanto poi se la uso per forza mi piace Se no non l'avrei usata Non fa una piega E una cosa che dovete dirmi nei commenti è Con chi vi piacerebbe vedere il prossimo episodio Di questa bellissima serie Che mi piacerebbe portare un prossimo episodio Ditemi con chi lo vorreste Io vi accontento subito L'importante è che lasciate un buon numero di like Perché così mi fate sapere se vi piace O sta arrivando un tipo Sta arrivando un tipo Quello madonna Questo no O Hacker O c'ha qualcosa che No eh Che c'ha speed Ma com'è Com'è possibile Vabbè Visto che comunque adesso Gesù abbiamo visto che esiste Ora possiamo testimoniare l'esistenza di Gesù Direi che possiamo andare dagli altri team A farli Anche se lo so Addirittura abbardato in questo modo Minchia Proprio tattici questi Mi piacciono Ma visto che noi siamo più fighi Andiamo direttamente Già Cioè Sarei andato molto Molto felicemente Ma Risparmiamo questa cosa E l'andare Yolo Anzi Freccio lui Mamma mia Che tattiche Mamma mia Ma dove vuole andare Questo no prima che spawna Blue team Io che team sono Ah ok Perfetto Perché se ammazzava poi il mio Sai come sbroccavo Ok Tu Tu direi che puoi pure morire Tanto ne approfitto Ammazza un po' te Ammazza un po' lui Mamma mia Guarda che boss 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 Mamma mia Pure con Gitterquick Ci impegno proprio Tu Non so se sei Eh no Qua inizierei ad essere un po' troppi Eh no Inizierei ad essere un po' troppi Sì Io fugo Io fuggerei Se mi permettete Io me ne andrei eh Così perché Intanto il vostro Ve l'ho picchiato Quindi posso pure Eh Dileguarmi Nello spazio Nel tempo Ho finito pure le frecce Eh Te Non mi stai Particolarmente simpatico Però Lucci Minchia ma chi sono Sono così forte Veramente incredibile Ho una Gapple Però una Gapple Non mi va di sprecarmela così Quindi direi che me ne sto Un attimo per i cavoli miei No Quello non mi piace Bella per te Aia Questi continuano a frecciarcela Sai che faccio Mi prendo le frecce E le faccio sprecarmi E prendo le frecce L'unica cosa che vorrei sapere È se qualcuno sta Alla nostra isola Perché se non c'è nessuno Alla nostra isola Quello diciamo che Oi Ehi amico 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 Questi arrivano Amico E dovete Dovete venire ad aiutarmi Perché io non è che posso Fare tutto da solo Oddio Che usa il bug dei blocchi Mamma mia Mi chiamano proprio pvpr Niente C'è niente da fare Che sono troppo forte È destino Che io devo andare da questi E aprirle il culo È destino Alla Gapple È destino È destino È destino Ah ma c'è un altro Già qua dentro Oh ma che carino Così me lo dici Te che vuoi Te sei morto Proprio da prima Te quest'altro Che picchia il mio teammate Ti facciamo la gangbang Guarda quanti siamo Dovevo andare Dovevo andare Dovevo andare Guarda guarda Entra un altro Io me li faccio tutti Magari tutti noi Però La maggior parte Me li potrei fare Così guarda che Che poteroso click Che pvp Era impressionante Questo mi ha fatto Però se è monormazzo Eh no se è un altro È un altro È boni 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 H punto Gold team eliminated Ma dove Ce ne facciamo un'altra E potrei stare iniziando A capire il perché Queste cose andrebbero fatte In team Quindi Se lasciate un bel like Mi spronate a portarvelo In team Così io sono sicuro Che volete vederne un altro Bello Molto carico In team E mi ci impegnerò A portarvene Uno solo Di Sky Giants Una partita Soltanto vinta Così invece Algo un buon team Con cui possiamo fare Questa figata Che può essere Che non so Dani Può essere Zarda Può essere Chiunque voi vogliate Ditemelo sotto Nei commenti Così ci impegniamo Ne facciamo Una partita fatta bene E la vinciamo E ve la porto Così io sono soddisfatto Incredibile Perché sicuramente Anche questa L'andrò a perdere Visto che Che cosa Vedete aspettare Se non sono in team Con gente che capisce Io Se io vado Sulle altre isole E qui la lasciano Tutta tranquilla Di certo Qualcuno arriva Sempre ad ammazzarci Andiamo da lui Ehi amico Tieni Prenditi questo Corpetto in diamante Te lo regalo Prenditi anche questo Te lo regalo Te ne do tanti Visto che questo Non ti ho preso Prendere almeno quello Una cosa che dovremmo fare Sarebbe bardare Però tanto Non ha un gran senso Perché alla fine Se non vuole entrare Come avete visto Alla fine io Se non vuole entrare Entra Non è che si fa problemi Ok Visto che le isole Si sono aperte Io direi di andare Perché è molto sneaky Tanto tranquillamente Noi potremo iniziare Ad avventurarci Ecco I blocchi sono una cosa Che dovrei usare E possiamo provare Ad avventurarci Almeno per adesso Al centro Così siamo sicuri Che qualcosa Ci possiamo prendere E la madonna E la madonna No no Questo non ha Questo è Sì 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 Nonno Lui ha No ma chi Lui no Ma te pare Oh addirittura Anti knockback Oh mio dio È carinissimo No guardalo Che carino C'è pure l'anti knockback Ma è un amore Una cosa positiva C'è Non c'è il corpetto Ecco Se quello si mette Il corpetto Siamo finiti Perché io non sto Mai in team Con gli hacker Ci sai che soddisfazione Sarebbe Eccolo Madonna 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 Ma come si fa Ma come Come lo butti giù A uno così C'è C'è Come 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 pretendi Se sei in team Con un hacker Sai come sarebbe tranquillo Alla partita Veramente fa tutto lui Io mi rilasso L'unica cosa Che possiamo fare È prenderli Di soppiatto Perché L'hacker Di certo Non puoi affrontarlo Ecco Finito i blocchi Ecco Qui si riprendi così Loro Non se ne accorgono E distruggi Il loro Bellissimo Coso Ecco Appunto È arrivato l'hacker Io ci ho provato A distruggire Sì vabbè Ciao amico Guarda È bello Ora il problema Qual è Se l'hacker Se ne accorge Di che team sono E viene a distruggermi Il mio Perché di certo Non ci metterà molto E la madonna Ma come si fa Ecco Sta andando a distruggere Il mio Perfetto Abbiamo perso Ragazzi È stata una bella partita Molto emozionante Abbiamo già perso Guarda bro Ti lancio una pozione Tanto ho perso Ho perso Come faccio A buttarglielo giù Come si fa A giocare così Con uno così Direi che per il video Di oggi Può essere tutto Mi dispiace Se non ne ho vinta Neanche una Mi dispiace Non sapete quanto Mi può dispiacere Però Di certo È venuto Il video È venuto Come è venuto Fatemi sapere Se vi è piaciuto Vivi da lasciare Un like Un commento Con il nome Di chi volete Che faccia Il prossimo Con chi Non so manco parlare Il nome di Con chi volete Che io faccia Il prossimo Sky Giants Che vi porterò Penso Settimana prossima Così me lo organizzo Bene Faccio un bello Sky Giants Figo figo Con la persona Che voi avete deciso E proviamo sicuramente A vincerlo Ci vediamo Nel prossimo Da RedderBlack È tutto Bella